E' vero, l'incidenza del tumore alla mammella sta nettamente aumentando, basta pensare che ormai ci sono circa 50.000 casi di tumori, di diagnosi di tumore alla mammella all'anno in Italia, di cui 500 negli uomini. Solo in Puglia ce ne sono 3.000 l'anno. L'incidenza aumenta per vari motivi, ma il dato importantissimo è che sta riducendosi quella che è la mortalità. Per uno 0,9% di aumento di incidenza abbiamo circa due punti di riduzione di mortalità per questa malattia. L'aumento del tumore al seno che è dato sia dall'aumento dell'età e quindi soggetti anche di 80 anni, di 90 anni che ho già malo di tumore al seno, aumento di inquinamento ambientale, alimentare, l'uso anche di farmaci o di sostanze ormonali eccetera, abbiamo una riduzione che è data da fattori ben precisi. Uno, la diagnosi precoce, perché essendo una patologia multifattoriale non possiamo agire con una prevenzione primaria, ma agiamo proprio con una prevenzione secondaria, arrivare quanto prima, scoprire il tumore nelle fasi più iniziali. Questo ci permette terapie più conservative, migliori qualità di vita, terapie meno aggressive e ha determinato un netto abbassamento della mortalità. È ovvio anche grazie alle terapie mediche che oggi si vanno affacciando sempre più frequentemente all'orizzonte. Per la prevenzione oggi la donna ha varie possibilità, vari armi definiamoli, che devono essere modulate a secondo di quella che è l'età. La cosa importante è per una donna dopo i 40 anni iniziare con l'esame mammografico. Rimane il gold standard, cioè il test principale per la diagnosi e quindi la scoperta della patologia tumorale nella mammella, a cui si associano delle tecniche complementari, quali l'ecografia o anche tecniche di secondo livello, il prelievo con ago, la risonanza, oggi la mammografia con contrasto. Ma quando parliamo di mammografia dobbiamo parlare fondamentalmente di una mammografia di qualità e oggi la mammografia è tomosintesi, cioè la possibilità di studiare la mammella con una tecnica più avanzata, cioè studiandola a fettine, a strati, per poter andare a cercare in maniera più precisa e più in profondità quelle che sono le eventuali lesioni. Quando si fa poi la diagnosi di una lesione, definiamola all'inizio sospetta, con esame clinico o meglio ancora con esame mammografico ed ecografico, prima cosa non farsi prendere dal panico, la paziente deve essere accompagnata in un completamento di un iter diagnostico perché la lesione va ulteriormente analizzata con un prelievo con ago, va fatta la risonanza in quelle strutture diandolari molto molto dense, molto irregolari per capire se la lesione è unica o è a più foci, cioè a più localizzazioni che non significa una malattia più grave, cambia però quella che è la pianificazione chirurgica e poi bisogna accompagnare la paziente fino all'intervento e poterla seguire con lo psicologo, con la psicologa, con un'equip di chirurgia che sia una chirurgia esperta alla mammella perché demolire una mammella è facile, ma non è questo il nostro obiettivo, il nostro obiettivo è la salute e la restituzione estetica alla paziente, quindi tutto l'intervento in un unico tempo.